Mercoledì 12 agosto alla chiesa di Santa Croce in località Monte Croce alle F un'elevazione musicale in ricordo di Monsignor Lorenzo Frana. Com'è nata questa iniziativa? L'occasione è venuta dal maestro Ugo Gelmi che durante le vacanze estive risiede qui in Monte Croce che ha proposto di proporre un concerto col suo gruppo Il Sottobosco in cui lui suona con altri maestri e abbiamo colto dopo un paio di anni in cui si parlava di questa cosa l'occasione per quest'anno abbinando la memoria di Monsignor Lorenzo Frana nel decimo anniversario della morte. Monsignor Frana era un sacerdote nato a Gandino e che ha lavorato per molti anni nella diplomazia vaticana. Per 22 anni è stato l'osservatore permanente della Santa Sede presso l'UNESCO e nel 26 agosto del 79 ha benedetto la chiesa di Santa Croce. Da allora poi lui ha trascorso per molti anni le vacanze qui in Monte Croce fino alla morte. Nei mesi da giugno a settembre veniva tutti i giorni a celebrare la messa e poi presiedeva la solenne celebrazione al termine della stagione, l'ultima domenica di agosto quando ricordiamo l'esaltazione della Santa Croce e appunto presiedeva la solenne messa e la processione del pomeriggio. Per cui ci è sembrato bello insieme anche alla parrocchia approfittare di questa occasione per ricordare una figura molto amata da chi veniva a trascorrere qui le vacanze e che ha avuto modo di conoscerlo come sacerdote e come uomo. L'Elevazione musicale è in programma per mercoledì 12 agosto alle ore 21 nella chiesa di Santa Croce in Monte Croce a Leffe. Il concerto è organizzato dal Comitato Monte Croce in collaborazione con la parrocchia di Leffe e con il patrocino del comune di Leffe. È il primo concerto che si tiene in questa piccola chiesa e ringrazio in nome del Comitato il gruppo Sottobosco che ha accolto la nostra iniziativa e è venuto qui da noi per presentarci la sua musica. Quello che abbiamo appena sentito suonare è il fagotto di Ugo Gelmi uno dei componenti di questa formazione, il Sottobosco. Spieghiamo chi siete e che tipo di musica proponete. Il Sottobosco è un gruppo musicale fondato da Alberto Bonacina, esperto di musica antica e di flauti dolci, che è stato costruito attorno al flauto dolce, che è uno strumento antico e nobile. All'interno di questo gruppo ci sono degli strumenti antichi, appunto come il flauto dolce, ma anche moderni, perché l'obiettivo è quello di proporre al pubblico un repertorio molto eterogeneo anche per quanto riguarda la scelta dei brani musicali. Infatti noi proponiamo sia musica antica, rimandi del Rinascimento o dell'Età Parocca, ma anche musica che richiama situazioni popolari, paesane e anche rimandi alla musica jazz e alla musica popolare. Quindi è un gruppo costituito da sette strumenti musicali, due flotti dolci, un flotto attraverso, l'oboe, un fagotto, una chitarra e un violoncello. Stiamo promuovendo quest'anno il terzo CD che abbiamo inciso con la collaborazione dell'ACLI di Bergamo per sostenere un progetto in Palestina, in Terra Santa, dove sta per essere costruita una scuola e tutti i fondi che verranno ricavati dalla vendita di questo CD saranno poi devoluti all'ACLI, che poi farà avere tutto quanto alla Palestina questo progetto Terra Santa per la costruzione di questa scuola.